A due passi dal mare, dalla Pineta e dal cuore di Viareggio. Da oltre 50 anni l'hotel Caribe offre soggiorni indimenticabili all'insegna della cordialità e della cortesia. Valori che da sempre sono nel DNA di Sergio Laferla, proprietario dell'hotel gentile e attento a tutti i particolari. 14 camere vista mare, ola e deor rinnovati e una cucina guidata dalla moglie Laura con menù sempre diversi e un occhio attento alla stagionalità e alle ricette toscane. Una formula vincente! Hotel Caribe, la tua vacanza nel cuore di Viareggio.